Noi abbiamo per la prima volta nella storia del Comune di Foggia che ci siamo costituiti parte civile in una serie di processi e quindi faremo anche questa costituzione di parte civile perché penso che il territorio deve essere difeso e tutelato e tutti ci devono mettere la faccia. Ci hanno fatto l'appello anche alle persone coinvolte che paradossalmente anche nel passato nonostante erano iscritte nel procedimento come parte lese non si sono costituite parte civile. Quindi ognuno deve avere il coraggio di costituirsi così come faccio l'appello anche alle associazioni di costituirsi a tutti gli enti coinvolti in modo tale da creare quella rete che non può Foggia subire un'immagine distorta perché Foggia è fatta per la stragrande maggioranza di gente per bene.